Lui si parte Quando esci da qui, quando esci da qua, portala, perché stai a girare l'avversario, dovete fare un due contro uno, ok? e io vi portarlo a te, poi lo scelgo qui, allora lo faccio un dito, aspetta prima bene portare il luogo devi trintarlo aspettare che lui faccia un po' più grande il tuo popolo ok bravo controllo e passaggio orvi 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 o o o allora an Grazie a tutti.